Eccomi, buongiorno, buongiorno, che bello vedervi, buongiorno ai maestri, alle maestre così importanti per la vita dei nostri bimbi, sono papà e ne so qualcosa, buongiorno ai dirigenti, ai direttori didattici che ci permettono di fare queste operazioni così belle, buongiorno ai bambini, alle bambine, ai papà, alle mamme, insomma buongiorno a tutti, sono Oreste, qualcuno mi conosce o mi riconosce perché a tanto tempo racconto storie su Rayo. Rayo, grande canale, Rayo, dedicato all'infanzia. Cosa succede? Un incontro bello tra l'autostrada di Milano a Serravalle e Oreste. Decidiamo insieme di realizzare un documentario di 45 minuti sul tema del viaggio, viaggio onirico, viaggio della fantasia, del divertimento, del disegno, dello scrivere, del fantasticare, insomma viaggio a. all'interno dei temi della sicurezza stradale così importanti per tutti noi, la particolarità, un docufilm realizzato con la collaborazione di molti bambini delle scuole di Milano e dintorni. È uscito un prodotto bello, ci piace, ci piace, ma non ci fermiamo qui. Con l'autostrada di Milano a Serravalle stiamo realizzando, parte adesso, adesso, insomma, tra pochissimo, un grande concorso patrocinato dalla regione Lombardia. Un concorso sul viaggio, partecipate tutti, andate sul sito www.serravalle.it, troverete tutte le caratteristiche e informazioni per partecipare. Non mancate, sarà un'avventura meravigliosa, anche perché il 22-23 aprile, 22-23 aprile, nelle sedi, negli ambienti della Milano a Serravalle, faremo un grande percorso teatrale al quale potranno partecipare le classi che hanno vinto, insomma, parteciperete un po' tutti, dai, ci divertiamo insieme, col tema del viaggiare. A presto, ciao ciao!